Cosa che dobbiamo fare adesso? Assoluto! Ciao! Basta, va bene così! Anche oggi il nostro video l'abbiamo fatto! Allora! Secondo me non siamo mai stati così tanti tutti insieme In ogni cultura no! Tanto adesso poi ci mettiamo anche un cartonato di pollo e la nesta Ma anche di Pietrino a sto punto Non si può nominare? No, forse si può nominare L'inominabile Pietrino Non so Si può nominare Adesso lo bippiamo Esatto lo bippiamo Vabbè, cosa stiamo facendo? Ecco, ecco No, tu ti dica No, raga, sta succedendo una cosa molto importante Come potete vedere dai nostri outfit Troppo poco è Natale Ma pensa E cosa facciamo a Natale di Pepita? Che ci sbagliamo, siamo felici Vi daremo un sacco di consigli Su cosa fare durante le feste per sentirvi più festivi Più natalizi Più sbronzi Sì, soprattutto più sbronzi Al primo dicembre, al 25 dicembre cosa succederà? Lo dica a qualcuno di voi Il Vlogmas! Un applauso per la parola Vlogmas! Perché perché se ne so il Vlogmas? Chi lo spiega, bambini? Lo spiega? Vai, ciù, ciù! Scilla! Ogni giorno, come un calendario dell'avvento, ci sarà un video in cui uno di noi fantasticamente consiglierà cose di vario genere, argomenti vari, eccetera, eccetera E sarà bellissimo Ogni giorno un video di resta Sarà bellissimo Sarà bellissimo Parla per i tuoi Io lo garantisco I miei sono terrificanti, ragazzi No, i miei oggi ho avuto una buon'idea I miei sono terrificanti Spoiler! Mi sembra che con i miei sono arrivati, eh? A genitare agli autori No, però saranno tutti molto utili No, i tuoi anche sono terrificanti Ehi, poi Ragazzi, c'era una cosa tremenda Mi piace una via di mezzo tra la televisione e Art Attack, ma fatti male Oh, beh, io parlerò di alcol, quindi andrò tutto bene Io parlo di dolci e di alcol Tu parli più di alcol che di dolci alla fine Vabbè, comunque, questo è il nostro personalissimo calendario dell'avvento su YouTube, ma C'è anche un altro calendario dell'avvento Sì, perché ci sbagliamo con i calendari dell'avvento Ma andrò per Natale Fortissimo Oh, mi parla per te Oh, cosa hai detto? C'è anche un altro calendario dell'avvento Lo vuoi dire tu? No Per ogni giorno ci sarà una casellina da aprire Vi dovete scrivere la nostra newsletter Vero che l'avete fatto Se no potete scrivervi alla nostra newsletter Andando sul nostro link tree Cioè su Instagram Sul link in bio Cioè la casellina per iscriversi alla nostra newsletter Ma anche nella descrizione di questo video È la prima volta nella vita che sento la parola link tree Ma io mi sono Ma adesso a tu Cioè rischia di vincere il commesso del mese Eh sì, per l'avete Eh sì, per l'avete Potrebbe, potrebbe Comunque sì Se vi scrivete la nostra newsletter Vi arriverà il primo di dicembre O il 29 di novembre O il 30 di novembre Non lo so Un giorno Un giorno Un newsletter con il calendario dell'avvento Tutti i giorni potete aprire una casellina Ci saranno delle meravigliose illustrazioni inedite Fatte appositamente da me e medesima Ma quelle fatte bene Non quelle che faccio male Fatte da Val Le blu blu Fatte da Valeria Beccari Fatte da Viviana Giovannini Fatte dalla Ness E da me no 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 E no E poi ci saranno anche delle caselline special Super segrete Con Alcol No No perché essendo un calendario dell'avvento digitale Era un po' scomodo poi Disegnato Ricchi premi e cotillon No ricchi premi e cotillon Sì esatto In tutte le caselline c'è qualcosa di meraviglioso speciale Le illustrazioni le potete cliccare Ve le potete salvare Ci sono degli sconticini Ci sono degli sconticini Non facciamo troppo spoiler Troppo spoiler Troppo spoiler Troppo spoiler Troppo spoiler Dobbiamo dire tutto noi Ah Ehm Basta Basta Abbiamo qualcos'altro da aggiungere Io rinnoverai l'invito forse alla nostra festa di compleanno Assolutamente sì Il 17 dicembre Quindi se state guardando Il 18 dicembre È andata malissimo Sì Sì Se no Si aprirò il 17 dicembre Il 17 dicembre Compleanno di Pepita Ramone In piazza Valoria Sarà una ficcata totale Con anche lì Musica Alcol Ma c'è sempre a dire Alcol Ma adesso per parole Tipo quelle Da rimarcare Quelle Sì Caspita Cioè Fondamentale Cosa facciamo Beviare Viva YouTube Viva YouTube Viva YouTube Grande YouTube Grande Sì 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 Logaritmo di YouTube Anche Instagram No Si parla degli altri social Sui social Sei matto Eh sì Non devi nominare Chiamano gli altri social Gli altri social Ok Che bummer Vabbè Scusate Classico video Pieno di contenuti Questo Di buoni sentimenti Di buone intenzioni Ciao raga Ciao Eee Gli altri social Gli altri social Si odia la morte Gli altri social 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 Gli altri social